buon pomeriggio a tutti e bentornati al terzo incontro il ciclo delle pilole di sostenibilità organizzate dalla commissione russe dell'ateneo di verona e dalle organizzazioni studentesche che gravitano attorno alla nostra università il il mio contributo sono mattoni colini presidente della commissione della rete delle università sostenibili presso appunto l'ateneo di verona e ho il piacere appunto di introdurre un un ulteriore momento di di confronto e di dialogo e abbiamo con noi abbiamo il piacere di avere con noi il professor roberto giacobazzi che è il direttore del dipartimento di informatica del nostro ateneo e il professor alessandro ormeo che è professore di fisica applicata sempre nel dipartimento di informatica e lo scopo di questa pillola è quella di dialogare attorno all'inquinamento digitale l'energia dietro ai dati noi viviamo e stiamo sempre sperimentando anche cosa significa vivere una pandemia e rimanere connessi con soprattutto con i docenti con i colleghi e svolgere le nostre attività di didattica di ricerca di terza commissione mediante il supporto appunto dell'informatica e dei mezzi di comunicazione di tipo digitale ecco in questo in questo in questo incontro sollecitato dalla sessione studentese che qui sono rappresentate da beatrice branca che insieme ad alessandro romeo e sottoscritto animerà la 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 pillola e al sempre presente andrà golini che è in qualche modo il referente di tutte le organizzazioni studentesche di verona e presso appunto la commissione delle reti dell'università sostenibile abbiamo pensato appunto di dialogare attorno al tema dell'inquinamento proprio per vedere cosa se effettivamente e questo modello di gestione della comunicazione ormai anche della vita professionale e anche della della formazione dei giovani abbia anche per dire così alcuni non so chiamiamoli effetti collaterali lo scopo infatti è quello di dialogare intorno ai due goals dell'agenda 20 e 30 energia pulita e accessibile e consumo e produzione responsabili io ringrazio ancora il professor giacobazzi per aver accettato il nostro invito e ringrazio anche alessandro romeo che insieme a me siede all'interno della commissione e peraltro è nel gruppo di lavoro della russe di energia per aver appunto deciso appunto di moderare l'incontro nonché ringrazio appunto beatrice per voler appunto aprire il canale con con i con gli studenti di beatrice possiamo appunto ricordare che scusate che è iscritta al primo anno del corso magistrale in editoria e giornalista giornalismo ed è appunto anche espressione della della dell'organizzazione studentesca pass magazine che è nata nel 2007 come gruppo studentesco all'università di verona creato da un gruppo di studenti provenienti da diverse facoltà allo scopo di dar voce alla componente studentesca medesima ed è anche un laboratorio per studenti un laboratorio perché si presenta come organizzazione che fa anche informazione in continua evoluzione desiderosa appunto di assorbire le idee di tutti noi appunto e degli studenti per continuare a crescere e migliorare è un giornale aperto a tutti in particolare a chi vuole capire come funziona il giornalismo e conseguentemente mettersi alla prova quindi anche un invito a volersi in qualche modo cimentare con una professione che peraltro ha subito proprio per 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 la legittimizzazione una pluralità appunto di evoluzione bene io lascio appunto a beatrice ringrazio dai volini e tutte le altre associazioni che richiamo qui con noi abbiamo a e j abbiamo la gioventù federalista europea elsa e le quali hanno contribuito e contribuiscono da almeno tre anni alla realizzazione di questi incontri questo è questo ciclo di incontri un grazie ancora a voi studenti per aver deciso di rendere ancora più comunità la nostra dimensione come la nostra dimensione universitaria da parte universitas proprio questo rappresenta nella terminologia latino medievale e quindi grazie ancora grazie a voi e grazie appunto a beatrice a cui c'è la parola grazie al professore batteo nicolini per avermi introdotto e ringrazio anche i professori alessandro romeo e roberto giacovazzi per essere oggi pomeriggio qui con noi e do il benvenuto a tutti gli studenti che ci stanno seguendo come ha già detto il professore nicolini io sono qui in rappresentanza delle associazioni studentesche e di pass magazine e e sono qua in per sono qui appunto in rappresentanza degli degli studenti e assieme ai quali insomma abbiamo discusso abbiamo deciso anche di portare l'attenzione su questo tema ovvero sulla sostenibilità che pensiamo sia molto importante per il futuro di tutti noi ma specialmente anche di noi giovani che sicuramente con gli studi che affronteremo qui all'università e poi la professione che svolgeremo una volta che avremo finito il nostro percorso di studi dovremo dare il nostro contributo per cercare di cambiare la società in cui viviamo e fare in modo e quindi nei prossimi dieci anni di attutire l'impatto dell'inquinamento sulla sull'ambiente e di ridurre le emissioni di anidride carbonica sicuramente questo lo potremmo fare se ognuno di noi cercherà di fare la la propria parte e anche di creare delle strategie economiche dei comportamenti sociali che ci permetteranno di abbattere appunto il cambiamento climatico e il tema che di cui parleremo oggi appunto l'inquinamento digitale e forse ancora un tema nuovo di cui non si sa molto motivo per cui vorremmo approfondire con l'incontro di oggi pomeriggio questo tema perché pensiamo magari con la rete che qualcosa di molto astratto eh che non che non ha magari un impatto su sull'ambiente e che non contribuisce all'inquinamento ma in realtà non è esattamente così perché c'è comunque una grossa un grosso dispendio di energia ehm che viene ehm consumato per far trasportare i dati da una rete all'altra o da un canale all'altro appunto e siamo milioni e milioni di persone che usiamo questo sistema e di conseguenza eh c'è un impatto anche sull'ambiente quindi con l'incontro di oggi l'auspicio è quello di capire che cosa sia eh l'inquinamento digitale e magari di eh cercare di imparare qualcosa su come potremmo effettivamente ehm ridurre eh questo questo problema e quale potrebbe essere il nostro comportamento futuro eh con la tecnologia proprio per eh cercare di ridurre l'inquinamento ambientale eh detto ciò eh eh passo la la parola ad Alessandro Romeo e vi ringrazio ancora tutti quanti. Sì grazie mille e oggi intanto ringrazio ringrazio Matteo Nicolini, il professor Matteo Nicolini che ha in qualche modo organizzato insieme a me questo questo incontro e il professor Roberto Giacobazzi che che ha accettato di di venire a spiegarci un pochino l'impatto del dei dei dati sul sull'inquinamento sul consumo energetico eh globale che effettivamente è una è un problema che diventa sempre più sempre più importante diventa un un sempre più uno topic. Io ehm io a questo punto sono un fisico e sono insegno ehm presso il dipartimento di informatica eh appunto eh alcune materie sulla di fisica di fisica di base e anche qualcosa sulla sulla fisica dei semiconduttori ma fondamentalmente mi sono sempre occupato da da sempre proprio dai tempi della mia tesi di laurea di eh energia eh di energia alternativa in particolare di di fotovoltaico. Allora prima volevo appunto intanto spiegarvi eh fare un piccolo cappello cercando di non occupare troppo tempo eh del su quanto per quanto riguarda diciamo la la situazione energetica e sull'impatto sull'inquinamento sull'impatto della della del consumo energetico eh mondiale e in questo senso io eh avrei preparato alcune alcune slide eh molto velocemente che eh per spiegarvi un pochino qual è la situazione attuale. Allora eh noi questo è un piccolo una piccolissima presentazione per quanto riguarda il laboratorio che c'è all'Università di Verona che c'è ormai da da più di dieci anni eh che si occupa proprio di produzione di fabbricazione di celle fotovoltaiche quindi noi facciamo piccole celle solari eh sia su vetro come vedete che è su supporto flessibile quindi in maniera totalmente flessibile eh le fabbrichiamo da dal proprio da from scratch come si dice l'inglese cioè dalla dall'inizio partendo da un vetro da un vetro semplice da un vetro completamente eh vergine e poi andiamo ad analizzare eh le proprietà elettriche le proprietà fisiche di questi di queste celle fotovoltaiche che ovviamente eh quali sono quali sono le diciamo le cose che dobbiamo cercare di migliorare sono fondamentalmente il rapporto efficienza costo eh in maniera tale da essere sempre più eh convenienti rispetto alle tradizionali fonti energetiche ma ehm cerco basso subito invece alla eh la slide successiva dove vi faccio vedere che eh questo è una una presentazione una 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 slide della 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 associazione energetica internazionale dove avete eh vedete chiaramente il cambiamento della eh richiesta di energia primaria eh nel mondo e vedete che ci sono delle eh delle cerchietti gialli e dei cerchietti rossi cerchietti rossi in realtà sono eh stanno a a mettere in evidenza il fatto che eh l'energia consumata in realtà sta diminuendo cioè sta c'è un risparmio energetico rispetto a alla al passato eh addirittura l'Europa vedete che è meno duecento milioni di tonnellate di petrolio equivalente quindi è abbastanza è abbastanza virtuosa rispetto ad altri paesi ma anche i paesi come il Giappone e gli Stati Uniti sono su quella linea chiaramente sono è il primo mondo è ovvio è il primo mondo che sta aumentando la sua efficienza energetica e poi c'è tutto tutto il tutto quello che è invece il mondo in via di di sviluppo che è eh invece in aumento un aumento di consumo energetico il consumo la sua il suo consumo energetico aumenta sempre di più l'India addirittura supera la Cina come cambiamento di eh richiesta di energia primaria e quindi eh quello che succede è che per esempio dal 98 al 2018 poi in vent'anni eh da 375 eh exa joule eh di energia eh richiesta siamo passati a 580 exa joule in vent'anni quindi non dico non si è raddoppiata ma ma quasi eh quindi questo vuol dire appunto che malgrado malgrado il primo mondo stia efficientando la sua il suo consumo energetico in ogni caso nel mondo sta aumentando notevolmente il consumo di energia come probabilmente già immagina immaginate insomma non è niente di particolarmente nuovo quello che magari diciamo di positivo in questo in questo è che vedete la diversificazione delle delle fonti energetiche che diventa sempre maggiore adesso per esempio abbiamo un 4% di altre rinnovabili almeno per quanto riguarda il 2018 eh rispetto a quello che c'era nel 98 dove fondamentalmente a parte l'idroelettrico non c'era non c'era altro ecco e per quanto riguarda il la richiesta energetica del per nei dati che poi è l'argomento di oggi eh ho una sola slide su questa che è che è questa presa da un un lavoro che poi è stato riportato anche su Nature dove c'è una proiezione che fa vedere che effettivamente i data centers così come anche le reti dovrebbero portare ad un aumento consistente di energia di energia richiesta come vedete quindi ci sarà sempre un maggiore aumento di energia come eh ma principalmente dovuto appunto alla alle reti ai ai centri eh i dati ehm ehm una un piccolo una una piccola diciamo eh visione di quello che che sta succedendo è che per esempio vedete da qua questa è una visione effettivamente dal dal novecento all'inizio della metà dell'ottocento fino ad adesso è che effettivamente eh aumenta il mix energetico cioè c'è sempre più un un aumento del dell'utilizzo di diverse fonti energetiche mh non ce n'è più solo una ecco quello è ed è quello che succederà sempre di più quando vi parlano di un'unica energia fonte energetica che risolverà tutto mh questo magari potrebbe succedere forse in un futuro molto lontano magari con la fusione però in realtà eh sul breve medio termine quello che ci sarà quello che avremo è un mix di eh fonti energetiche eh ne ho allo stesso tempo questa penso che sia una slide che abbiate già penso molti di voi abbiate già visto è quello che eh è sorprendente che è stato fatto vedere già vedete questa del 2016 eh è il fatto che con l'aumento della delle 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 dei gas serra eh aumenta appunto chiaramente la concentrazione di CO2 e questo è perfettamente allineato con l'aumento della temperatura come potete vedere quindi eh sul blu il blu è l'aumento della temperatura e il bianco è la linea della dell'aumento della concentrazione della CO2 ma questo è uno slide che penso abbiate abbiate già visto e inquinamento tra virgolette perché effettivamente la CO2 non è un inquinante non è eh qualcosa che eh fa parte comunque dell'atmosfera terrestre è però anche sbagliato dire che non sia un inquinante perché in un certo senso un inquinante è quello che ti cambia l'equilibrio dello naturale e quindi sicuramente la CO2 aumentando notevolmente la temperatura questa cosa lo fa e anche questo è una cosa che vi vi ecco questo io consiglio diciamo eh suggerisco sempre di andare a guardare questo sito è quello della NASA è climate.nasa.gov che è veramente molto molto interessante pieno di pieno di dati anche molto belli fatti fatti molto bene assolutamente non noiosi dove si vede che è vero che ci nei migliaia di anni ci sono state delle fluttuazioni della della dei parti per milioni di CO2 della concentrazione di CO2 ma è anche vero che se voi andate a guardare negli ultimi dieci anni vedete come in realtà siamo andati ben ben oltre eh la media degli ultimi quattrocento anni ehm io passerei diciamo eh quello che volevo eh quindi poi concludo eh aggiungere è fatto che eh chiaramente la l'energia il consumo di energia primaria principalmente come potete immaginare principalmente dalla degli Stati Uniti e la Cina che hanno che sono effettivamente molto energivoli anche l'India e lo è e per persona chiaramente questa cosa diciamo diventa eh più eh centrata verso eh il primo mondo ehm l'utilizzo delle rinnovabili è un pochino a macchia di leopardo non ce n'è molta in Brasile perché in realtà quello che vedete lì è l'idroelettrico fondamentalmente che ovviamente è una è una fonte rinnovabile essa stessa ehm altre le altre fonti diciamo eh rinnovabili più importanti tra diciamo possiamo considerare quelle della generazione energetica dal dal sole che è il fotovoltaico e in questo senso la la maggiore generazione elettrica eh del fotovoltaico viene anch'essa eh principalmente dagli Stati Uniti e dalla dalla Cina e sorprendentemente la Cina in realtà non è solo un produttore ma è anche un eh un produttore di moduli ma è anche un produttore di energia e anche l'India tra l'altro l'India è avvantaggiata dall'irraggiamento fondamentalmente infatti se voi andate a guardare poi l'installazione eh l'installazione in India è più bassa rispetto alla Cina ed è anche la Cina vedete quella che ha maggiore eh capacità di moduli fotovoltaici installati rispetto a tutti gli altri paesi questo perché da una parte sicuramente sta aumentando anche la sensibilità diciamo eh rispetto all'inquinamento questo è assolutamente vero ma dall'altra è anche perché semplicemente la Cina ha bisogno di energia e quindi cerca di produrla in tutti i modi che è possibile immaginabili compreso il fotovoltaico quindi c'è sicuramente una sensibilità eh ambientale ma eh devo dire devo ammettere che c'è anche proprio una richiesta una necessità eh energetica eh tutto qua ehm niente insomma concludo concludo questo piccolissimo questa piccolissima presentazione ehm facendovi vedere diciamo l'impatto dal punto di vista appunto delle delle CO2 da una parte e anche dal punto di vista della sicurezza dall'altra quindi il numero di morti diciamo anche che che può che può essere eh generato tra virgolette se si può dire così che suona malissimo da per una per una un teravattora di di produzione energetica vedete che chiaramente il carbone è quello che è quello che dà il risultato peggiore insieme al petrolio e quindi noi in realtà tante volte ci preoccupiamo di dell'impatto del fotovoltaico ma anche del nucleare per certi aspetti non sono un nuclearista però quando poi ci dimentichiamo che il petrolio fa fa molto peggio ecco e ovviamente e poi e poi via a scalare e scendere fino ad arrivare al fotovoltaico e infine vi concludo con questa con questa mappa della del irraggiamento eh del irraggiamento solare eh in Europa e come vedete diciamo considerando l'Europa continentale quello che eh si vede è che a parte la Spagna noi siamo quelli che saremmo più avvantaggiati a utilizzare l'energia solare vabbè ho fatto un piccolo spottino anche per l'energia fotovoltaica mi dovete scusare per questo ma eh penso che eh potesse essere comunque interessante ecco allora adesso io eh tolgo la quella condivisione eh eccomi qua e e e con questo diciamo concludo la la mia presentazione poi magari dopo se ci saranno se ci sono domande sono sempre a disposizione eh dopo dopo le dopo che il professor Roberto Giacobazzi eh ci farà vedere appunto eh quello che invece è il vero argomento di di oggi che è l'impatto dei 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 dati eh dei dei dati sull'inquinamento e sul consumo energetico globale che effettivamente è qualcosa di estremamente importante eh ormai eh al giorno d'oggi e il professor professor Giacobazzi è eh professore di informatica presso l'Università di Verona e è anche il direttore del nostro dipartimento di informatica e sicuramente di eh una figura di grande prestigio sicuramente che vi presenterà lui poi un pochino quello che di quello di cui si occupa e ci ci spiegherà ci spiegherà un pochino quello che quello che è l'impatto eh dei dati l'impatto ambientale eh dei dati eh prego Roberto. Grazie Alessandro. Provo a condividere eh eh la presentazione. Riuscite a vederla bene? Sì. Allora innanzitutto eh grazie per avermi invitato. Io mi occupo principalmente di problemi di cyber security eh però eh ovviamente da informatico ho a che fare coi dati, ho a che fare quel codice, ho a che fare con la manipolazione dei dati e questo è un tema che ovviamente ha un impatto ambientale importante e che pertanto va analizzato. E vedete la transizione di slide? Questo sono io. È un automo ovviamente nel senso che ha degli stati che sono i miei stati, per chi fa fisica il concetto di stato è molto chiaro, e delle transizioni di stato dalla nascita fino a dove sono io con un periodo in giro per il mondo che aveva un invariante sostanziale, cercare l'estate. Per cui quando partiva l'estate in un emisfero io mi trasferivo nell'emisfero dove c'era l'estate e viceversa quando partiva l'inverno andavo in quello opposto. Sono ordinario a Verona ormai da ventidue anni quasi, ventun anni esatti, e ho fondato alcune start-up, una è stata una vera spin e poi ha fatto off, si chiama Giulia Soft, e un'altra invece l'ho fondata negli Stati Uniti ed sta crescendo nel settore del malware detection e anti-malware, quindi sulla cyber security. Allora, volevo iniziare con questa frase, perché Peter Lee, che è il responsabile della ricerca di Microsoft, peraltro persona che conosco perché viene dal mio settore, dal mio ambito disciplinare, ci siamo frequentati spesso nei congressi, nei convegni, nel 2015 ha scritto questa frase, ha scritto che scrivere codice, cioè programmare, è qualcosa che virtualmente faremo tutti in modo rutinario ogni giorno. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi sostanzialmente è già, quando parliamo con Alexa, quando parliamo con Siri, quando facciamo un game, quando interagiamo con la nostra, nel nostro sistema di Internet of Things, IoT, di oggetti che sono l'automobile, io mi sono dotato di automobile completamente elettrica, la carico con i pannelli solari che ho a casa, quindi sono perfettamente in linea con quello che diceva Alessandro, sono totalmente solare e consumo quel 12% di energia che consumo ogni giorno per commutare, caso ufficio lo ricarico con quello che ho caricato durante il giorno con i pannelli solari. Allora, sappiate che tutta questa domotica, ma che può essere anche un termostato relativamente sofisticato di casa, può essere il sistema delle telecamere, tutta questa domotica produce dati. E noi interagiamo con questi apparati in modo sempre più, cioè non scriviamo più delle linee di codice Fortran, come facevano i miei predecessori, o COBOL addirittura, quelli più antichi, o complicati, usando complicati linguaggi di programmazione. No, sempre di più noi programmiamo parlando, cioè usiamo la lingua, quindi il nostro linguaggio, come sistema di programmazione, ovvero come sistema col quale noi diamo istruzioni a cosa? A una macchina o una nuvola di macchine, cioè un agglomerato di macchine. Quindi siamo perfettamente in questo set, nel senso che non è necessario essere dei bravissimi programmatori con il master, il dottorato di ricerca in computer science a Stanford o a Verona. No, per programmare basta che voi parliate con Alexa e gli diciate alcune istruzioni. Ovviamente sono programmazioni differenti, però sappiate che questo tipo di programmazione si sta avvicinando sempre di più a una programmazione sofisticata, cioè voi parlate con la macchina e la macchina interpreta. Tutto questo ha un costo, perché uno può pensare, allora chiuderò la mia presentazione di oggi parlando del Covid in una slide e vedrete come sarà, quindi di quello che è l'effetto nella pandemia. Però se noi guardiamo, a prescindere dalla pandemia, perché la pandemia Covid-19 ha avuto un effetto anche un po' paradossale sul consumo, nel senso che è vero che si usa molto di più le plateforme digitali, ma è pur vero che si usano molto meno gli aerei. Quindi c'è un bilanciamento completamente anomalo nel trend di consumo e di inquinamento che è dato dallo sviluppo massivo dell'informatica. Allora, per arrivare a questa cosa qui farò una serie di analogie che immagino qualcuno di voi avrà già visto, per far capire che quando io interagisco con il sistema, quindi con un sistema sofisticato, come può essere un IoT, una macchina o addirittura il mio telefono, in realtà io movimento dati e il consumo, cioè quindi l'inquinamento, quindi il bisogno di energia, che non è detto che il consumo debba necessariamente essere inquinamento, però il bisogno di energia ha una sua proporzionalità con la quantità di dati che io movimento. Allora, cosa sono i dati? Il primo dato più elementare è un byte e io lo associo a un chicco di riso, lo vedete lì. Questo è un byte. Dopodiché, con un byte ho una sequenza veramente piccola di informazione, posso codificare i caratteri di una tastiera un po' di più. Allora, c'ho un kilobyte e un kilobyte è una ciotola di riso e già qui ho molte informazioni. Sappiate che prima l'espedizione Apollo sulla Luna aveva computers che manipolavano nell'ordine di pochi kilobyte. E comunque già l'uomo è riuscito a fare grandi cose. Poi abbiamo il megabyte e il megabyte, beh, qui quando si parla di personal computer, già negli anni Ottanta questi potevano sfoderare dei megabyte. E sono alcuni sacchi di riso. E la cosa cresce? Il gigabyte, cosa già più recente, è un, possiamo considerarlo, analogo a un tir di riso, pieno di riso. Un terabyte, container di riso. Un petabyte, tutta Manhattan, piena di riso. Un exabyte, è tutta la costa occidentale degli Stati Uniti, Washington, Oregon, Nevada, California. Uno zettabyte è tutto l'oceano Pacifico, pieno di riso. Sappiate che nel 2017, cioè quattro anni fa più o meno, il traffico internet, cioè quello che movimentiamo noi interagendo con la rete, ha generato uno zettabyte di informazione. Siamo nel 2017. Lo iottabyte sarebbe l'intero globo terrestre pieno di riso, ok? Allora ogni chicchino è un'informazione, è un carattere, immaginate se voi avete una quantità di informazione di questo genere. Guardate che nel 2020 abbiamo già movimentato globalmente, ok? Oltre uno zettabyte, ben oltre. Quindi la crescita va in questo senso. E questo è fondamentale perché c'è una correlazione tra consumo, energia e dati. E questa correlazione diciamo che emerge prepotentemente con la crescita letteralmente esponenziale del volume di dati. Allora io qui vi faccio una breve parentesi, brevissima, su due concetti fondamentali che secondo me è bene che gli studenti, quelli che ci sono e quelli che mai vorranno sentirsi questa storia, devono avere chiaro che c'è una differenza tra data science e computer science, cioè tra informatica e scienza dei dati. Non sono la stessa cosa. Io sono un informatico, vecchio stile. Il data scientist è una persona leggermente un po' diversa da me, diciamo. C'è uno shifty paradigma. Quando io ho studiato informatica, da informatica, io ho studiato che cosa? Il programma al quale venivano dati gli input differenti. Per esempio, un programma classico, ordinare una lista. Il programma che ordina la lista, noi lo studiavamo, era un programma e davamo tante liste diverse che venivano ordinate. Questa è la computer science. Se invece io considero data science, ho una base di dati fissa e cambiano i programmi. Cosa vuol dire cambiano i programmi? Sono il modo con cui io interrogo i dati. Quindi parlo con Alexa, gli chiedo dimmi il percorso più breve per andare al lavoro. Oggi. Alexa risponde e interroga. Quindi quello che genera Alexa è un programma che va nella base di dati, controlla il traffico, controlla i semafori, i lavori in coscia, eccetera, mi trovo il percorso più breve. Quello è un data science perché è un programma nuovo su uno stesso insieme di dati. Quell'oggettino lì è una Waymo, si chiama, è una macchina sviluppata da Google. Vi do solamente, ed è una macchina che riceve dati e li elabora. Quindi è un classico oggetto che è dentro un computer, che ha dentro un computer classico. Quindi un programma, molti programmi, tanti dati che entrano. Beh, vi dico che questa macchina ha un sistema di raffreddamento per i processori, questi oggetti qua, che non è più piccolo di quello di una macchina sportiva con tanti cavalli e motore termico. Quindi c'è bisogno di raffreddare una macchina, un computer invece che un, che dei pistoni. Quella macchina su dieci secondi di calcolo, il computer interno, otto sono dedicati a trovare vie di fuga per mettere il pilota in sicurezza. La macchina la guida in modo totalmente autonomo. Quindi c'è molta computazione che è quasi inutile e più ci sono sensori intorno, vedete la torretta con le telecamere, i radar, eccetera. Più ci sono sensori, più ci sono dati e più c'è lavoro da fare. Data science è estrarre valore da questi dati. Cioè questo oggetto, questa macchina qui, che è un classico computer con quattro ruote, produce dati. Oltre che elaborare dati per trovare le vie di fuga, parcheggiare in caso di incidente o evitare gli incidenti, quella macchina produce dati. E questi dati vengono messi a valore da chi detiene la macchina o chi ha il controllo del sistema, in che modo? Interrogando la base di dati. Quindi per esempio cercando di capire quali sono i tuoi percorsi usuali per proporti dei prodotti da acquistare. Tu fai un tragitto da casa all'ufficio, che è più o meno sempre quello. Il produttore dell'automobile fa un accordo con i venditori di scarpe, di genere alimentare e altro e ti fornisce lungo il trasito dei suggerimenti di acquisto. Una cosa di questo tipo noi la stiamo già sperimentando quando andiamo su Google e googliamo una parola che poi su Facebook ci arriva la pubblicità di quella parola, ovvero di prodotti correlati a quella parola. Potete pensare che questa cosa sia in prospettiva legata a una qualunque attività che produce dati. E questo è il data science. Domanda, quanta energia produce questa, quanta energia richiede questo tipo di attività? Allora Alessandro ha citato un bel paper che adesso riprendo, infatti peraltro c'è proprio una delle slide che ha mostrato Alessandro. Questo è la richiesta, la Global Electricity Demand, cioè la richiesta di elettricità globale. Guardate, in blu sono le attività di rete. Cosa vuol dire? Lo scambio di pacchetti rete vuol dire lo scambio di internet sostanzialmente. L'ICT sono tutte le attività legate all'information communication technology. I consumer device sono televisori, computer, telefoni e data center. Guardate la proiezione a 2030 nel caso ottimale, nel caso atteso. Rispetto alla domanda globale di energia, siamo in 40.000 terawatt l'ora, ok? La porzione che cresce di più qual è? Il networking, la rete, quindi lo scambio di informazioni, quindi questa idea di programmare e produrre dati ad ogni interazione che abbiamo con il mondo che ci circonda e i sistemi data center che sono dedicati all'elaborazione di quel dato e a estrazione del valore per chi, per chi vende i prodotti, per chi vende prodotti e servizi, che possono essere banche e altro. Vedete che quella, la porzione verde e la porzione azzurra sono quelle che crescono maggiormente. Guardate la porzione di richiesta energetica che c'è in prospettiva al 2030 sul totale della richiesta. È gigantesco. Questo era il grafico che ha fatto vedere Alessandro. E se vedete il, il, la crescita continua a essere estremamente marcata. Se andate indietro nel tempo, osservate che televisori, computer e telefonini avevano sostanzialmente la fetta più grande. Siamo nel 2010, 2012, 2016. Se guardate la proiezione al 2030, questa fetta è minima. Cioè, quello che conta è la gestione e la trasmissione del dato. Questo è il punto chiave che caratterizza il consumo e energivoro di questa tecnologia. Quanta energia? Beh, i data center da soli superano il 2% già oggi, se mettiamo insieme all'attività ICT. Guardate che si sta parlando di data center che sono sostanzialmente gli apparati, sono grandi agglomerate di calcolatori che hanno architetture in evoluzione, ma sostanzialmente quelle note, e che sono quelle di Amazon, di Facebook, di Apple, di Alphabet, Google e di Microsoft. Cioè, se guardiamo questi enormi colossi dell'ICT, beh, questi già da soli si mangiano su tutte le carbon emissions, una percentuale che non è affatto risibile ed è in costante crescita. La domanda è, ma per far che? Cioè, tutta questa energia mangiata o richiesta per elaborare, da dove, sostanzialmente come si distribuisce? Per quali servizi, per quale funzioni? Perché io ve ne ho citate alcuni, vi ho citato una macchinetta Waymo, però Waymo è una macchinetta che non c'è, cioè che nessuno, praticamente è un prototipo. Vi ho citato sistemi come quello che stiamo usando adesso, posso citare Zoom, Facebook, Instagram, tutte le piattaforme, ma c'è solo quello? No. Guardate la, la, una scala ad oggi, siamo anzi a 2018, quindi è già, è già un po', già questa, questa scala la dovrete guardare in una prospettiva che sia nel 2021, sicuramente questi valori si sono praticamente raddoppiati. Per solo fare il mining dei Bitcoin siamo già, eravamo nel 2018 a 20 terawatt l'ora. E uno può dire, ma che cos'è il mining dei Bitcoin? Adesso ve lo spiego. Poi ci sono i data center, l'abbiamo visti prima, poi l'ICT e poi il global electricity demand, questo al 2018. Cos'è il mining del Bitcoin? Questo è un fenomeno abbastanza curioso che può apparire come quello più inutile in assoluto. In realtà il valore del Bitcoin, non so quanti di voi hanno acquistato un Bitcoin qualche anno fa, se io l'avessi acquistato quando un mio studente, intesi con me, mi disse, prof, perché non compra dei Bitcoin? Con un Bitcoin ci compra, ci può comprare uno o due pizze. Adesso con un Bitcoin ci compravo una Mercedes di classe alta. Ok? Quindi c'è, è successo qualcosa, evidente. E questo qualcosa cos'è? Allora, qual è il valore? Qui non so quanti di voi sono economisti o studi in economia, ma prima di Bretton Wood il valore della moneta era legato all'oro. L'oro è un metallo raro, le banche acquisivano oro e legavano la moneta, il valore della moneta. Dopodiché è cambiato, era legato al mercato, è legato a tante altre, il valore delle monete. Qual è il valore della moneta Bitcoin? Il valore della moneta Bitcoin in origine era sul fatto che era necessario calcolare, quindi fare un calcolo molto intensivo, quindi molto energivoro, per dimostrare, per trovare il Bitcoin. I Bitcoin sono una quantità finita, non sono infiniti. Per trovarli, più tu ne allochi alla persona, per esempio Alessandro Romeo, più acquisisce Bitcoin, più per trovarne un altro deve computare. Quindi deve praticamente risolvere un problema computazionalmente molto 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 difficile. Matematico, è un problema matematico. Quindi il valore, se io dovessi pensare a un modello economico pre-Bretton Wood, quindi con moneta legato ad oro, il valore qui è all'energia consumata per estrarre un Bitcoin. Dopodiché io il Bitcoin lo posso passare a Beatrice e Beatrice a questo punto ha un Bitcoin, si compra un Bitcoin da me, è come se avesse comprato quella quantità di energia. Potremmo immaginare che sia quello il valore, però attenzione che il valore del Bitcoin è cresciuto esponenzialmente, quindi rientrano quei fattori di mercato. Ma già da solo a quella si fa, si faceva nel 2018 lo 0,5% del totale. Quindi immaginate che tutte le banche centrali trasformassero le monete in monete virtuali, ovvero monete su piattaforme analoghe a quelle di Bitcoin, quindi piattaforme digitali, quindi questo può avere un costo veramente pesante, soprattutto per le banche, per produrre la moneta, nel senso per aggiornare, per tenere in piedi la moneta. I data center, allora, se guardate il numero in milioni di istanze e la proiezione a raddoppio, perché vedete 2010-2018 e la proiezione a raddoppio, beh, guardate come si nota ancora, come si distribuisce la porzione di server rispetto alla porzione di infrastruttura classica, cioè nel 2010 era praticamente, c'era di più infrastrutture e pochi server. I server sono aumentati nel 2018, è il colore rosso acceso, rosso scuro, e si prevede raddoppio. Cosa sono quei server? Sono i sistemi di elaborazione dati, quindi data center. E c'è sempre uno spostamento dal tradizionale, che è praticamente ognuno ha il suo computer con i suoi dati e se li elabora in casa, in una struttura e una forma a cloud. Vedete come la riduzione si prevede che noi sposteremo i nostri dati dentro i data center, sempre di più rispetto a tenerli sulla nostra macchina. E questa è la distribuzione delle data center tra Asia, Nord America e Western Europe. Vedete, si mantiene più o meno costante, penso che questo è l'utilizzo elettrico, quindi il consumo, quanto è energivo il data center dentro questi paesi, beh, è importante osservare come questa distribuzione abbia anche ragioni geopolitiche, nel senso che la presenza del dato in un contesto regionale fisico ha anche delle ricadute di tipo politico, ovvero di gestione del dato. Torniamo alla macchinetta. Allora, vi dico questa cosa, torno indietro a Leibniz. Leibniz personalmente lo trovo come il più grande pensatore moderno, uno dei più grandi pensatori modelli. Guardate cosa scriveva Leibniz nel 1702. Leibniz già aveva capito che sarebbe nata Waymo e che sarebbe nata la Tesla, perché scrive non c'è nessun dubbio che un uomo può fare una macchina che è capace di girare, di camminare, in una città per un certo tempo, girare agli incroci, in modo incomparabilmente più perfetto, anche se limitato, rispetto a quello che può fare un essere umano, evitando gli ostacoli. E tutto questo non è altro che una combinazione finita, di un numero finito. Lui è un filosofo, matematico, teologo, pensava in senso astratto agli atomi, ma immagina sostituite in questa frase atomi con istruzioni, come combinazione di un insieme, di un numero finito di istruzioni che interagiscono con un apparato meccanico. Il programma, il software ovvero che interagisce attraverso l'hardware con la macchina. E ha capito perfettamente la situazione. Vi lancio quest'ipotesi e vi faccio vedere il costo e l'impatto di alcune tecnologie come quelle di machine learning e di AI, in particolare NLP, Natural Language Processing. Cioè proprio quegli apparati che processano le istruzioni verbali che noi diamo ad Alexa o a Siri, quindi che interpretano il nostro il nostro parlato come istruzioni macchina. Allora, guardate il costo in termini di CO2, il calcolato in libre. E per un passeggero la tratta a New York San Francisco fa 1.984 libre di CO2. E lì vedete bene che per fare un training importante che cresce, guardate sui modelli, 4.789 modelli, quanto costo di elettricità per allenarli in modo tale che siano in grado di comprendere il parlato. Guardate che costo elettrico generano. E se vedete l'impatto in CO2 è abbastanza grande. Allora poi in un bel momento uno si può chiedere, ma perché abbiamo bisogno di spendere così tanta energia e quindi generare così tanta CO2 di conseguenza? Perché si considera qui il sistema di produzione, quindi legato al consumo di energia, quindi la produzione di CO2 legata all'energia, in funzione della ripartizione che ha fatto vedere Alessandro prima tra le sorse ininnovabili, gas, carbone e nucleare, a seconda dei paesi. Ecco, se prendete quindi la fotografia attuale, che è quella tabella in alto a destra della ripartizione delle risorse, attraverso un calcolo matematico si riesce a estrarre un costo e un impatto energetico e un costo energetico e un impatto ambientale per le mere attività di allenamento del sistema intelligente. Attenzione, noi siamo frutto di un'evoluzione, quindi la nostra evoluzione biologica ci ha allenato per milioni di anni a essere quelli che siamo e se noi prendiamo un'automobile, noi saliamo sull'automobile, facciamo un corso di due mesi, prendiamo la patente e siamo in grado di parcheggiare l'auto più o meno, magari facciamo qualche botta, all'inizio possiamo fare tranquillamente dei tragitti, riusciamo a evitare i pericoli. Se voi prendete un computer e dovete insegnargli a fare quello, lui non ha un'evoluzione di qualche milione di anni come animale per arrivare a concepire il concetto di pericolo e dovete spendere molta, 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 molta energia per farlo. Quindi ci sarà un momento in cui ci dovrà essere un bilancio. Mi costa di più avere una macchina, quindi anche in termini di impatto ambientale, una macchina che guida completamente da sola, oppure pagare una persona che mi fa da chauffeur. Perché bisogna anche considerare che l'impatto dell'interezza artificiale è un impatto estremamente alto all'interno sia di quello che è l'impatto ambientale che di quello del consumo e del costo energetico. Vedete che per allenare 4.000 modelli, quasi 5.000 modelli per un certo numero di ore, siamo nel campo della Natural Language Processing, quindi dei sistemi tipo Siri e Alexa, si spende una, comincia a spendersi una cifra che comincia a avvicinarsi al salario di una persona che a part time vi guida la macchina, per esempio. Perché tutto questo? Adesso faccio il professor universitario e provo a inserire questo in una storia. Perché se siamo a questo punto è perché calcolare costa energia. Allora, per quale motivo calcolare costa energia? Uno potrebbe pensare che calcolare è usare, staffare, che è un abaco, un piccolo oggetto che ci permette di fare somme prodotti. Beh, in realtà calcolare, il significato di calcolare ha dentro di sé il concetto di consumo di energia. E vediamo perché. Allora, ovviamente calcolare, se è andato indietro a Eratostene, Eratostene aveva già dato delle procedure, che sono, ovvero degli algoritmi, per fare alcuni calcoli. Voi conoscete l'algoritmo per fare la somma. Eratostene aveva addirittura calcolato con estrema precisione, questo non ditelo ai terrapiattisti, perché lui aveva già capito perfettamente che la Terra non era piatta, e aveva calcolato con una precisione enorme, 40.000 versus 40.009, la circonferenza c'era terrestre, guardando l'angolo e facendo una proporzione. Quindi aveva trovato un metodo, è scogitato un metodo di calcolo che aveva dei parametri e quindi pertanto poteva essere adattato a una molteplicità di dati, un algoritmo, un programma, da informatico, non da data scientist. Questo è proprio un esempio di informatico, un proto-informatico. Dopodiché c'è l'Antikythera Mechanism, che è una macchina di cui ancora non si è capito tanto significato, che aveva comunque una potenzialità di calcolo. Adesso faccio un salto in avanti e vi faccio vedere il 1600-1500. Allora non può dire, ma questo calcolo non è veramente così, non consuma così tanto. Il regolo calcolatore, sicuramente Alessandro lo ha usato almeno un miliardo di volte durante il periodo universitario. Il regolo calcolatore è praticamente un modo con cui voi, non esistendo il calcolatore elettronico, voi facevate slittare dei righelli e riuscivate a fare dei conti abbastanza sofisticati, cioè hanno tirato su ponti e grattacieli con i regoli calcolatori, con palazzi con i regoli calcolatori. Quindi è una cosa che usa sostanzialmente funzioni tipo il logaritmo e altro per fare conti anche abbastanza sofisticati. Perché vi dico questo? Perché a un certo punto, dopo che si è introdotto un algoritmo, si è introdotto il regolo calcolatore, strumenti, a un certo punto già Leibniz l'aveva capito, era necessario dare un automatismo a questo. Perché se io vi dico la procedura per calcolare la somma e poi voi vi dovete mettere lì con carte appena calcolare, la somma è una rotola di scatole. Se invece io vi do gli elementi e la macchina fa questo, è eccezionale. Allora, quando si comincia a ragionare in questo modo, guardate dove interviene l'energia qui, è il punto chiave in cui comincia entrare l'energia. Si comincia nel 1600. Con quale tecnologia? Qual era la tecnologia secondo voi disponibile nel 1000? Perché ogni avanzamento scientifico si porta dietro un pensiero filosofico e una tecnologia. Noi oggi parliamo, non parleremo della parte filosofica, parleremo della parte tecnologica. Qual è la tecnologia disponibile nel 1600? Chi me lo sa dire? Qualcuno? Nel 1600? Nessuno di noi c'era nel 1600. Però c'era una cosa che era sicuramente disponibile e vi faccio vedere cos'è che era disponibile. Gli orologi. Nel 1600 non c'erano i transistor, i circuiti, i quantum bit. No. La tecnologia disponibile era quella degli orologi. Sofisticatissimo. C'è la meccanica. E c'era meccanica di grandissima precisione. Guardate Jacques de Vaucanson che fece l'anatra che addirittura aveva deiezioni. In realtà era tutto finto. Oppure guardate questo robot che suona. Questo non è altro che un orologio sofisticato che non conta il tempo ma muove apparati. E questo addirittura poteva essere programmato per scrivere certe cose. Ovviamente immaginatevi la cosa. Quindi meccanica, automi e orologi. Orologi siamo nel 1400. Meccanica siamo nel 1400. Gli automi sono nel 1700. E Pierre-Jacques Drotz, che è uno svizzero, ha fatto delle cose meravigliose. Ok? Addirittura potevano scrivere queste, questi, questi, questi automi. Allora, se io ho una tecnologia di questo tipo, guardate dietro di uno di questi automi, è un orologio a tutti gli effetti. Cioè ha la tecnologia di un orologio, ha gli apparati che voi trovate in un orologio. Un orologio di grosse dimensioni, ovviamente. Ovviamente sono apparati ricombinati. Se tu vuoi meccanizzare questo, hai bisogno di indurre energia per muovere questi apparati. Beh, e guardate che già l'hai prima Pascal con una piccola macchinetta che esiste, ce ne sono alcuni esemplari, si può chiamare la cosiddetta pascalina. Poteva fare addizioni e sottrazioni. E la Heibniz Genio, questa non l'ha mai realizzata, quella che vedete nel nel video è una realizzazione moderna di quella macchina, ma il progetto è perfetto, faceva addizioni, moltiplicazioni iterando le addizioni, cioè quindi facendo addizioni dopo addizioni, quindi sommando più volte la stessa quantità generava moltiplicazioni, sottrazione e divisioni. E qui siamo nel 1700. Il sistema funzionava sostanzialmente così, esattamente come il regolo calcolatore. Immaginate che voi avete lo zero, dovete dare energia per muovere il tamburo. A questo punto voi volete fare una somma. Se voi volete fare una somma, dovete dire per esempio, beh, io voglio sommare cinque. E questo Alessandro che ha usato il regolo calcolatore capisce subito che questo non è altro che fare uno slide di due righelli. E poi ci sommo un'altra quantità. Per esempio ci sommo due. Vedete che si accumula l'accumulatore? Quindi per calcolare una semplice addizione di questo tipo, cinque più due, cioè sette, devo produrre, devo dare energia alla macchina. In questo caso una macchina meccanica. Poi se ci aggiungo anche tre, dovrò tener conto dei riporti. E questa è la genialità di Pascal, che ha un complicatissimo sistema. Non è anche più tanto, lo insegno qua ai miei studenti, perché è veramente bello, che è proprio il sistema con cui un orologio passa da un'ora dopo che ha fatto un giro dei minuti di sessanta. Esattamente lo stesso identico meccanismo, quello che porta il riporto al tamburo successivo. Se andiamo al 1800, adesso vado più veloce, qual è la tecnologia disponibile nel 1800? Nel 1800 la tecnologia disponibile è il telaio di Jacquard. Ma non solo. Fondamentale è una risorsa di energia che è quella delle macchine a vapore. E allora voi avete il telaio di Jacquard con la macchina a vapore, diventa uno strumento di calcolo. Modifico il telaio con i sistemi di addizione e sottrazione, aggiungo il vapore, che è una fonte di energia, e comincio a calcolare in modo automatico. Tutte le rivoluzioni informatiche, ma penso anche quelle fisiche, mi può confermare Alessandro, derivano da alcune invarianti filosofiche, senza dubbio, cioè la mente, il pensiero del momento, tecnologiche, la tecnologia a disposizione, cioè se devo spaccare un protone non lo posso fare con la meccanica del 700, e spesso un bisogno di potenza, quindi una necessità bellica. Se voi guardate, siamo a fine dell'ottocento, siamo a metà dell'ottocento, fondamentale è far sì che la marina di sua maestà, la regina, possa arrivare dal punto A al punto B con la massima precisione. Io mi sono comprato in un mercatino francese un libro di tavole di logaritmi e funzioni trigonometriche. Queste funzioni, è un libro così, costava 5 euro, è pieno di numeri, è molto noioso da leggere, però ha una caratteristica che allora, prima della meccanizzazione, questi numeri erano calcolati a mano con un'altra probabilità di errore. Se c'è un errore, la marina, la nave sbaglia e quindi è necessario proporre un sistema per calcolare quelle tabelle in modo automatico e questo è Charles Babbage. E qui c'è una meravigliosa storia che serve quella di Ada Lovelance Byron, figlia di Lord Byron, che è proprio la vera inventrice, è colei che inventa la macchina e il concetto di algoritmo moderno. Charles Babbage costruisce la macchina delle differenze che non è altro che un enorme orologio, enorme. Se andate in California al museo dell'informatica Palo Alto, vicino a Cupertino, si passa un ponte a Palo Alto e trovate esattamente un'implementazione Microsoft di questa cosa, molto costosa. Questo è un super computer per il tempo. La cosa bella è che questa macchina, Charles Babbage non trovava i fondi per sviluppare la versione più sofisticata di questa macchina e venne in Italia dall'Inghilterra. Fenomeno questo che, devo dire, nella storia è più unico che raro, nel senso che di solito sono gli italiani che non trovano fondi per fare le loro ricerche e se ne devono andare in Inghilterra. No, lui venne presso lo stato Sabaudo e Luigi Federico Menabrea, ufficiale Sabaudo, lo vedete perfettamente rappresentato nell'immagine, gli diede la possibilità di sviluppare il progetto. E la cosa fantastica è che Ada Lovelance Byron costruì il primo algoritmo e sorprendentemente questa macchina, che poi in realtà tecnicamente non è mai stata realizzata, ha teoricamente la stessa potenza di calcolo del computer che abbiamo davanti. Solo che per realizzarlo, se volessimo implementare con questa tecnologia, questa è una piccola ruota fatta in una stampante 3D di quella macchina, se volessimo realizzare il computer che abbiamo davanti con questa tecnologia degli orologi, avremmo bisogno probabilmente di tutta l'Italia del Nord o forse molto di più di spazio, perché ovviamente non riesce a essere, è un'energia gigantesca per fare calcoli semplicissimi. Nel 1936, e qui arrivo, Alan Turing sviluppa un modello di calcolo che è astratto e indipendente dalla tecnologia. Se voi fate girare la ruota, quindi fate girare la ruota della tecnologia, cioè ci mettete qui dentro una tecnologia, qualunque essa sia, se ci mettete l'elettronica di oggi avete l'iPad, l'iPhone, il computer che conosciamo. Se voi continuate a far girare, immaginate che questo sia un rullo, fate girare la tecnologia, ma il modello è sempre lo stesso, se ci mettete le valvole termoioniche, avete il vecchio computer che consumava megawatt per calcolare poche cose. Se fate andare la tecnologia e vi fermate per esempio sulla meccanica, avete la macchina di Babbage, ma è sempre lo stesso oggetto, calcola la stessa cosa, ma cosa cambia? La tecnologia e l'energia richiesta. Se voi poi fate andare avanti la cosa, ci mettete addirittura la biologia, avete il cosiddetto DNA computing. Guardate l'energia, con un joule di energia, un computer implementato in una cellula, fa 2.19 alla 19 operazioni al secondo. È tantissimo con un joule di energia. E un bit è un nanometro cubo. Se invece fate la stessa cosa su un supercalcolatore per un data center, fate 10 alla 9 operazioni al secondo con lo stesso joule e un bit è 10 alla 12 nanometro cubi, quindi molto più grande, come se fosse la stessa scala che c'è tra la macchina di Babbage e il computer moderno, se vogliamo pensarci. E poi potete addirittura farlo quantistico e allora lì la tecnologia diventa, si spara al futuro e lì una quantità di informazione è ben più piccola di un nanometro cubo. Cosa ci sarà poi dopo è un grande punto interrogativo e non si sa. Ci sono dei miti falsi in tutta questa storia. Tutta la storia dell'informatica è caratterizzata da un mito che col tempo si è falsificato, purtroppo che si è, diciamo, trasformato e che addirittura è diventato un problema. Io ho messo qui un quadro di Boccioni che rappresenta la velocità. Tutta l'informatica, se voi guardate la storia che vi ho fatto molto breve del calcolo, è sostanzialmente orientata a calcolare sempre più velocemente. Calcolare sempre più velocemente significa spesso perdere di vista alcuni problemi, che sono problemi invece diversi. Uno di questi è stato la sicurezza. Addirittura sappiate che, visto che quando voi eseguite un programma avete molte scelte, il programma ha molte scelte, per interrogarsi su quale scelta intraprendere deve andare nella memoria, vedete c'è il disco, e andare avanti, indietro dalla memoria, c'è la lumaca, nel senso che è lentissimo. Allora pensate che addirittura ci sono dei programmi, cioè questi circuiti qui sono implementati in modo tale che, poiché è lentissimo l'accesso alla memoria, conviene quasi provare a caso o con una certa strategia certi cammini e poi, se sono quelli sbagliati, torna indietro. Beh, guardate che molto di recente, circa quattro anni fa, è stato trovato un exploit, si chiama, cioè un attacco, che permette di leggere la password dal computer in pochi secondi, sfruttando il fatto che quando si smontano queste informazioni che uno ha generato per andare veloce, perché l'importante era andare veloce, si lasciano delle tracce e quelle tracce gli hacker le possono sfruttare. Qual è la conclusione di tutta questa storia? La conclusione è questa qui, che sostanzialmente partendo dall'animale, noi ci siamo evoluti o forse anche involuti, adesso bisogna vedere se ne possono dire tante cose, ci siamo evoluti in un certo senso e anche le macchine di calcolo evolvono, dalla macchina più semplice fino a quella più sofisticata che è il computer moderno. C'è un'evoluzione di questa cosa e questa evoluzione corrisponde tutte le volte all'introduzione della tecnologia. Questa tecnologia ha bisogno di energia, l'energia abbiamo visto è in crescita al bisogno computazionale, il bisogno computazionale è legato al mercato ed è legato anche a fenomeni strani come il bitcoin che si fa fatica a volte ad accettare. Guardate che dal 1940, quindi sostanzialmente da quando sono stati prodotti i tubi a vuoto nei computer, quindi la tecnologia degli anni 40 erano le radio, non erano gli orologi e quindi i computer sono stati fatti con le valvoline termoioniche. Dagli anni 40 il numero di operazioni che un computer può fare per ogni kilowattora di energia si è raddoppiato ogni 1.6 anni. Quindi vuol dire che la potenza di calcolo, quindi in un certo senso la velocità ha aiutato a consumare poco. Perché se ogni 1.6 anni raddoppia il numero di operazioni che un computer può fare, vuol dire che la sua velocità raddoppia ogni 1.6 anni, vuol dire che ci sono circa un improvement, un aumento di 10 miliardi di volte in 50 anni. Allora, questo vuol dire che la velocità per kilowattora è aumentata tantissimo, ma ricordatevi l'inizio della mia talk con il chicco di riso fino all'oceano. Quanta energia ci vuole, quanto calcolo, quante operazioni ci vogliono per gestire e manipolare quella quantità di dati? Nonostante questo incremento che è dovuto alla velocità, quindi questo miglioramento del consumo energetico dovuto alla velocità, si ha un incremento praticamente costante, se non che diciamo abbastanza alto, del consumo di energia sui dati. Vuol dire che il numero di dati che noi produciamo è molto più grande della crescita in velocità della macchina. Questo lo salto, chiudo su Peter Lee, vi ricordo la frase con cui ho aperto che era scrivere codice, qualche cosa che prima o poi faremo tutti. Scrivere codice non vuol dire scrivere, alla tastiera vuol dire parlare, interagire con la macchina. Il fatto che miliardi di esseri umani si mettono in questa prospettiva a scrivere, a produrre dati, fa sì che nemmeno l'aumento di velocità, con i problemi che può causare l'aumento di velocità per unità, per kilowattore, che si ha dallo sviluppo tecnologico, riesce a star dietro la quantità di informazione che è necessario estrarre da questi dati. E quindi si ha una crescita del costo sia in termini di CO2, sia in termini quindi di inquinamento, che soprattutto anche economico per quanto riguarda la computazione. Il Covid, ho due slide che ho finito. Il Covid, e questa è l'unica slide sul Covid, perché sembrava giusto metterlo come al centro della questione, il Covid apre però degli scenari completamente nuovi, nel senso che il Covid ci ha sostanzialmente messo tutti a terra, in tutti i sensi. Messi a terra vuol dire che noi consumiamo diversamente, produciamo molti più dati, perché guardate che la talk di oggi ha prodotto per Zoom una quantità di informazione gigantesca, ok? Quindi ci sono interazioni, i proprietari di Zoom sanno chi c'è, a che ora si è collegato, se ha acceso la telecamera o no, potrebbe addirittura tenere aperto il microfono anche se voi l'avete tenuto chiuso e ascoltarvi e vedere che cosa fate, magari un prodotto da comprare domani. Quindi la quantità di dati che la piattaforma produce è aumentata col Covid in modo ulteriormente esponenziale. Però noi abbiamo ridotto gli spostamenti, abbiamo ridotto i consumi. Probabilmente sarebbe molto interessante vedere alla fine pandemia che cosa è successo. Se i meeting che si avvengono spostandosi da un punto all'altro della città, vengono via Zoom, che impatto ambientale ha e che bilancio viene fuori. Allo stato attuale non ho trovato e non ho un'idea di cosa possa succedere e di quale possa essere l'esito di questa analisi, ma penso che sia un'analisi fondamentale per capire l'evoluzione anche del nostro lavoro, sia come informatici che come anche cittadini. Vi chiudo con questo meraviglioso video della Boston Dynamics, perché questa è una meraviglia. Questo robot salta e fa un'operazione che un bambino di cinque anni, magari non con quelle altezze, però diciamo un bambino di cinque anni, operazioni di questo T, ecco questa forse no, è un po' allenato, riesce a fare grazie alla sua evoluzione. Il robot, per far fare al robot questa cosa, è sicuro che c'è stato un dispendio di energia gigantesco. Io vi pongo solo questa questione. Quali saranno effettivamente i lavori che verranno, qui gli è andato male, quali saranno i lavori che gli sono andati, che verranno effettivamente sostituiti da questo tipo di macchine? La mia percezione, visto che ha un costo, è energivora, l'intelligenza artificiale è energivora, ha un costo alto, è una tecnologia sofisticata. Allora, è probabile che questo tipo di tecnologia vada a sostituire lavori altamente proceduralizzati ma anche di alto costo. Per esempio, il radiologo. Una mammografia fatta con l'occhio umano, dopo la mammografia fatta, elaborato il risultato da occhio umano è molto meno precisa che quella fatta da un sistema di intelligenza artificiale. Ma per formare un medico radiologo che arriva a quel punto, quanto costa la società? Probabilmente un training di intelligenza artificiale può arrivare a essere vantaggioso. Mi chiedo se sia vantaggioso invece un lavoro molto semplice come quello di un fattorino che ha un costo di preparazione molto basso. Il fattorino deve interagire con una realtà mutevole e la sua evoluzione naturale e biologica lo aiuta. Prende la bicicletta, si muove nel traffico, arriva, ti dai il pacco e se ne va. Operazioni di questo tipo, quel robot di Boston Dynamics, che sono fatti poi per i militari, per fare altre cose, quel robot, prima di riuscirlo a fare, ci vorranno tera vattora di consumo e milionate e milionate di dollari. Il fattorino costa pochissimo. Quindi ho la sensazione che questo sarà un ulteriore spartiacque tra i lavori, quelli che saranno automatizzati, quelli che non saranno automatizzati e tra quelli che subiranno una forte automazione non è detto che ci siano i lavori più umili. Peccato sarebbe che venisse lasciata agli uomini solo i lavori più umili. Bene, grazie a Roberto Giacobazzi per il suo intervento e anche grazie prima ad Alessandro Romeo e ora aprirei un dibattito. Posso intervenire un secondo? Grazie, grazie Roberto, davvero. Apprezzo poi da... Sai, io sono un giurista, peraltro anche abbastanza all'antica. Sono un comparatista, quindi non sono un giurista che si occupa di un problema, sono poi un metodologo, mi offro di diritto africano, di diritto disciplinare con la letteratura, la geografia, queste cose qui, quindi i temi sono molto interessanti e se posso dare dei consigli dal punto di vista di tu quello che hai detto, soprattutto legato alle evoluzioni tecnologiche, è contenuto in questo libro, faccio vedere, il nuovo Nomos della Terra, ricalca il titolo del libro di Carl Schmitt, uscito nel 50, scritto da Sergio Ortino che è il professore con cui mi sono laureato io, e proprio dice questo volume intende individuare i nesi di causalità tra innovazioni tecnologiche, ordinamenti spaziali e forma politica e chiude l'ultimo paragrafo, 1998, questo era un giurista, con la figura dell'individuo sovrano che è proprio colui che è al centro della rete cibernetica, che è un po', quindi le ultime tre pagine, nel 98 in epoca particolarmente, ci raccontano appunto che è impossibile parlare di megastati nella globalizzazione orizzontale, perché i processi di trasformazione in atto stanno decentrando ad ogni livello non soltanto la conoscenza, ma anche il potere politico e quindi l'idea delle piramidi rovesciate, quindi potrebbe essere interessante perché parte ovviamente dall'origine della ruota, poi nel 2010 fece grande volume la struttura della rivoluzione economica, però è molto interessante. Poi se posso da giurista questa cosa che interessa soprattutto voi, questo libro uscito nel 2019, The Code of Capital, che è di Pistol, questo libro è bellissimo perché alla fine, a parte trasformare il processo di codificazione della ricchezza mediante i modelli informatici, questa è una comparatista, crea, e quindi torno all'ultima, al fatto che siamo, è l'amara costruzione di fare una sostanza, di lasciare computer la vita che cosvolgevano i personaggi di Jane Austen e noi invece siamo quelli che alla fine faremo i servitori dei robot nella sostanza. Ecco, lì pone un problema grossissimo, c'è lo sconto tra economisti, informatici e giuristi, perché il vero problema, quindi lo dico, non è tanto il fatto del blockchain, del fatto di tarare i dati, c'è il problema dell'interpretazione giurista da fastidio perché il giurista interpreta, è il problema fondamentalmente di chi, economisti, informatici o giuristi, aspetterà poi il compito di interpretare la realtà, perché il giurista interpreta, l'informatico crea un coding, l'economista cerca di vedere un futuro. Sai come sarà Matteo, quando la macchina avrà una sua interpretazione e a quel punto tu mi dovrai dire per quale motivo l'uomo, ti assicuro che i neoliberisti delle varie scuole Chicago & Co. arriveranno a dire che l'interpretazione della macchina in quanto oggettiva, falso, assoluto, in quanto oggettiva sarà più importante della tua interpretazione di giurista e quello sarà il punto in cui la macchina prende il sopravvento. Ci siamo già, ci siamo già, ci siamo già perché abbiamo i giudici che ormai fanno questo, si interrogano gli algoritmi, cioè voi capite che nel momento in cui hai una macchina, il problema tipico del giurista è quello, la macchina di cui hai parlato tu, ha due possibilità, o andare a sbattere il conto, ha una bambina davanti alla strada, la strada che deve scegliere interroga, cosa è il danno minore? Distruggere la macchina o uccidere la bambina? Perché ce l'ha in mezzo, cioè questo è un problema su cui i giudici sono profondi. Secondo me io vorrei che i giovani dell'Ateneo di Verona in particolar modo, perché è il mio Ateneo, ma in generale i giovani affrontassero queste tematiche, perché tra non tanto, parlo di pochi mesi, tra qualche anno, questi saranno i temi, non gli altri. Questo sarà il punto chiave su cui un laureato in giurisprudenza, un laureato in economia, un informatico, laureato in giornalismo, un fisico ovviamente perché loro sono più bravi di tutti. Sono questi punti i temi su cui saranno chiamati a dare risposte, non altro. Sarà quello. È la realtà, chi la governerà? Eh sì. Ok, grazie e lascerei magari spazio adesso anche a qualche domanda, intervento magari da parte degli studenti, qualche curiosità, qualche tematica che vorrebbero approfondire in merito a quello di cui abbiamo parlato oggi. Corrado, studenti. Perché ci sono anche i fenomeni degli zumbis, cioè quelli che sono collegati ma non ci sono, però in realtà io credo che ci sia. Io vorrei una domanda. Margherita Zera. Sì, più di tipo tecnico. Beh, intanto complimenti a tutti per la chiarezza e le varie delucidazioni su un tema che al giorno d'oggi è molto importante, soprattutto con la pandemia. Non so se voi mi sappiate rispondere, ma dei precedenti incontri che ci sono stati sempre organizzati dalla vostra associazione. Dove posso trovare le registrazioni? Perché non sono riuscito a vederli tutti. Dopo, cos'è mai, se mi scrive una mail, gli faccio appunto avere io il link. Ok, mi direbbe la sua mail, gentilmente. Matteo.nicolini.chiocciola.univre.it Ok, grazie mille. Buongiorno, buonasera. Io sono un dottorando di storia della scienza, quindi mi approccio a queste questioni in maniera un po' da porfano, diciamo, e ho due curiosità e magari vorrei anche aprire due altri campi. Uno riguarda la conservazione dei dati. Io come storico frequento gli archivi. Nel 2005 è entrato in vigore il codice dell'amministrazione digitale, che prevede una massiccia digitalizzazione degli atti amministrativi, che nel 2035 dovranno passare dall'archivio corrente all'archivio di deposito, che è quello che gli storici del futuro in teoria dovrebbero frequentare per fare la storia di questi anni. In realtà la gestione degli atti digitali, dei documenti amministrativi digitali in questo momento è abbastanza disastrosa e volevo sapere qual è la prospettiva quando ci sarà il passaggio dall'archivio corrente dell'archivio di deposito di gestione di questa molle di dati, perché questo forse non è esattamente inquinamento digitale, ma è sicuramente un problema di, come dire, di microplastiche informative, cioè sarà una specie di ocean in cui cercare di trovare il bandolo della matassa. Seconda domanda, di tutt'altro tipo, che in realtà riguarda più l'aspetto hardware, forse non è molto adatta all'incontro di oggi, però insomma io la butto lì. C'è anche un grosso problema di geopolitica per quello che riguarda il materiale di composizione di tutta l'apparecchiatura informatica che noi possediamo, i metalli erari, i metalli erari, e in questo caso sempre noi siamo nell'ambito dell'inquinamento digitale, ma in qualche modo ci avviciniamo. E naturalmente grazie a tutti gli organizzatori. Allora, interessante queste due domande. Uno è l'archivio. Allora, da un punto di vista teorico, quindi il più astratto possibile, il dato digitale è quello che si conserva meglio, che si potrebbe conservare meglio. Nel senso che tu lo copi identico a se stesso, lo puoi replicare all'infinito, addirittura ci sono esperimenti, un esperimento che l'ho stato fatto proprio qui a Verona, dentro una sequenza di DNA puoi codificare una quantità di dati che è probabilmente maggiore dell'archivio di Stato, quasi, e metterlo in un batterio e quello, quando si duplica, fa un backup con pochi gel di energia. E in teoria tu potresti mantenere questa cultura all'infinito, un po' come una specie di pasta madre del fornaio, che ha il lievito madre che si riproduce. Tu immagina che idealmente tu potresti mettere tutti i dati prodotti dall'uomo in un agglomerato che biologicamente si riproduce e conserva quel dato, che poi tu lo storico tra mille anni potrebbe andare a leggere con esattezza, senza il depenimento della carta, senza il fatto che ci sono degli incendi... Certo, si può incendiare la pasta madre, morire, però, insomma, possono... Idealmente tu la puoi copiare identico a se stesso. In realtà succede già così, perché un dato che tu metti sul cloud, tu hai una garanzia legale, formale, che sta, per esempio, in Europa. Ma nessuno ti dice che sta in Europa tutte le sue copie. Questo lo sa chi gestisce la rete, sostanzialmente. Quindi, dall'altra parte, però, succede che nasce una storiografia e un'analisi storiografica nuova. Cioè, tu, per estrarre il dato, perché il dato è codificato e gli strumenti di codifica evolvono, a un certo momento i vecchi dati non saranno più leggibili dai nuovi strumenti di decodifica. E quindi dovrai fare un lavoro di... Cioè, già c'è, nel senso che già ci sono delle persone che studiano l'archeologia, tra virgolette, del software. Cioè, vanno indietro nel tempo a prendere codici sviluppati 30, 40, 50 anni fa, ok? Per comprenderli, per vedere come funziona. E quindi è una specie di archeologia che poi diventa un'archeologia che ti permette di tradurre il dato. In questo senso il dato sembra più volatile, nel senso che un sistema di lettura PDF magari evolve da qui a 20 anni e i vecchi documenti non li legge più. Allora uno può dire, oddio, ho perso una quantità gigantesca di informazione. Per gli storici potrebbe essere un dramma questo, e per l'uomo penso anche per la cultura umana. E in realtà si deve accompagnare questo a un lavoro storiografico anche sugli strumenti. Che quindi, esattamente come penso sulla carta, ci sono i fisici che sono in grado di leggere i documenti antichi. Insomma, si sviluppa una tecnologia anche a supporto della storiografia. Per quanto riguarda l'hardware, è verissimo, ma tutte le questioni ormai sono di geopolitica, dal vaccino fino ai componenti dei vaccini, e l'hardware lo è sempre stato. Di fatto, quello che si sta osservando è che il mondo, il globo, si sta polarizzando in reti. Nel senso che la rete internet che conosciamo, che era fino ad oggi, diciamo, fino a ieri, era una rete unica con cui tu potevi dialogare con sistemi in Stati Uniti, in Sudafrica, in realtà si sta polarizzando. Cioè stanno crescendo reti di livello più alto, quindi reti nazionali o internazionali. Per esempio la Cina comincia a sviluppare una sua internet. Gli Stati Uniti... Quindi diciamo che intorno alle tensioni e alle relazioni della geopolitica globale si può mappare proprio in modo chiarissimo nelle sfere di influenza le reti. e i dispositivi hardware. E quindi anche tutta la supply chain che permette di sviluppare, di sostenere queste reti. Per cui tu avrai la rete nord-atlantica o del mondo occidentale, che sarà la rete internet classica. Molto probabilmente da qui a cinque anni la Cina avrà una sua rete internet autonoma, che quindi controllerà in modo molto più diretto. dopodiché la Russia non ha forse un bacino perché ci vuole un numero di abitanti. non è che possiamo fare la rete veneta, la rete internet veneta non abbia alcun senso, come non avrebbe quella italiana, come avrebbe poco senso forse quella europea. Quindi l'assetto geopolitico influenza la strutturazione delle reti e degli apparati che questi governano. Faccio l'esempio di Huawei. Il fatto che noi il 5G sostanzialmente non riusciamo a farlo con Huawei perché ci è impedito dagli Stati Uniti, probabilmente ha ragion veduta, ma dobbiamo fare con tecnologie differenti, già significa che noi stiamo impiantando un sistema, una rete, sulla tecnologia che non è quella di un altro paese. Quindi non c'è... Mentre la rete dovrebbe essere qualcosa di totalmente interconnesso, in realtà vedi benissimo che non lo è e neanche gli apparati che gli stanno sotto. Grazie. Io avrei un'altra domanda. Volevo fare prima, però me l'ero dimenticata. Ma allora, visto che ormai l'utilizzo dei dati, quindi la produzione di queste informazioni a partire dal bit poi al terabyte, è ormai diventato essenziale per noi, cioè sarebbe inconcepibile, penso, smettere di utilizzare internet questi dati, specie dopo la pandemia. C'è qualcosa che noi, come singolo individuo o come anche azienda, parlando più in grande, possiamo fare per ridurre, diciamo, l'impatto ambientale o, come si può dire, dato dall'utilizzo di questi dati, pur continuando ad usarli, insomma, qualche... o qualcosa di tecnologico, o di ingegneristico, ora non me ne intendo, oppure qualcosa di intervento, di nostro simbolo. Non so se mi sono spiegata. Sì, cioè, proprio l'azione dell'individuo come quello dell'individuo che usa prodotti a basso impatto ambientale, come si può relazionare con queste tecnologie per avere un basso impatto individuale ambientale, dopodiché la somma degli individui a basso impatto dovrebbe diminuire l'impatto. Il problema è che, da come si vede in quelle slide che avevo fatto vedere, cresce la componente data center e cresce in modo che non è legato al nostro utilizzo. A me... cioè, noi non possiamo più farne a meno. Sono servizi sostanzialmente gratuiti, ma che in realtà non sono affatto gratuiti. Cioè, noi paghiamo la possibilità di interagire attraverso Instagram o la possibilità di utilizzare Google Map, che è gratuito, ok? O Facebook. Noi lo paghiamo in che modo? Dandogli i dati. A quel punto, la computazione, cioè il costo ambientale e energivoro e l'apparato che è così energivoro, non è più nel nostro controllo. È nel come il modello di business di Google, di Facebook, di Microsoft, di Apple e adesso anche di Tesla o di altre big company. Notate una cosa, cioè, guardate il valore in borsa di Tesla, guardate il valore in borsa di BMW. Allora, BMW sono macchine di grande prestigio, penso, perché ci sono gli appassionati di automobili, le trovo meravigliose, ma il problema è che non vale niente. Cioè, non ha un valore, non ha un valore economico reale il business di BMW. Guardate il valore di Tesla, ma se, guardate come è fatta una Tesla, ma la Tesla è una macchina, è una batteria, sono 4.000 passa batterie Panasonic con quattro ruote e due motori elettrici che sono delle spire, tu Alessandro mi insegni, vicino a dei magneti e finisce lì. Cosa c'è di differenza tra la BMW o la Mercedes e la Tesla? Qual è la differenza? È la gestione dei dati. Tutto lì. Cioè, la Tesla è un computer con quattro ruote e una batteria. la BMW ha il motore, i pistoni, i bottoncini, il cambio, la trasmissione, c'ha mille altre cose che sostanzialmente non producono più valore. Quindi, uno si deve interrogare come faccio io a essere meno impattante sull'ambiente? Ok, compro una macchina elettrica, è vero, è stupendo, compro una macchina elettrica come una Tesla o come una macchina di quel tipo e io penso di avere un impatto basso. È vero. Cioè, probabilmente non consumi la benzina, magari la carichi col sole, è fantastico. Poi, però, attenzione, che tutta la gestione dei dati e del processo dei dati, il fatto che Tesla sa dove stai andando tutte le volte che ti muovi e che su questo ci fa business, tutta quella parte lì è una parte che tu non controlli e non riuscirai più a controllare. Anzi, addirittura, te la vendono molto bene come un oggetto green. e lo è effettivamente probabilmente più green di una BMW con tanti cavalli. Però, sappi che dietro c'è un lavoro sui dati che è totalmente fuori autocontrollo ed è dentro un modello di business che è globale. Solo gli stati, ma nemmeno più gli stati. Perché oramai dato noi, cioè, se tu, Margherita, google, domani ti stacchi da internet, decidi di non dare più nessun bit delle tue informazioni alla rete, la rete continua ad avere esattamente lo stesso potere, lo stesso consumo di energia con o senza Margherita Google. Quindi, l'unici che possono interferire su questo modello di business sono le Margherita e Google insieme ai Carlo Buffatti, alle Andrea Tanca, alla Sandra Romero, Roberto Giacobazzi, Beatrizia, e sono i gruppi, quindi sono grandi agglomerati di persone, stati o addirittura continenti. allora tu quando sei sopra i 100 milioni di utenti hai un potere con cui riesci a chiedere al tuo gestore dell'informazione di avere magari un footprint, carbon footprint un pochino più adeguato, ma altrimenti noi da soli non abbiamo praticamente nessun effetto. Quindi l'appello più che ai singoli che usufruiscono dei servizi e delle innovazioni va a chi gestisce queste cose, a chi gestisce i dati in pratica e noi possiamo solo incentivare diciamo come popolazione questi, però alla fine è tutta una questione di business, di affari, se questo porta a un guadagno poi è anche difficile fargli cambiare rotta diciamo. E ci pensi Margherita, l'unico dibattito che in Italia c'è intorno alle grandi aggregazioni, ai grandi player dell'informatica che sono cioè il valore di Apple è maggiore del pillo italiano, cioè siamo a valori spropositati. Allora il se tu guardi l'unico dibattito che c'è in Italia, in Europa è facciamogli pagare le tasse ma ti pare che ok vabbè è già qualcosa diciamo che è già qualcosa non le pagano le vadono vabbè Amazon Apple facciamogli pagare le tasse ma in realtà loro potrebbero anche dire buon te le pago queste tasse capito ma continuano a detenere l'informazione interamente loro continuano a controllare tutto quello che tutti i dati che noi gli diamo ed è su quello che ci dovrebbe essere un dibattito politico ma è talmente arretrata la cultura informatica e la cultura tecnologica di questo paese in generale dell'Europa talmente arretrata tranne l'Inghilterra che i suoi affari li sa fare da sempre molto bene che l'unica questione è facciamogli pagare le tasse perché c'è quello che c'ha il negozietto sotto casa che paga le tasse e vuole che anche Amazon paghi le tasse quella è la percezione ma vi assicuro che per i bilanci di Amazon e per i bilanci di Apple pagare le tasse può essere tranquillamente fatto non è quello il punto l'enorme business che si sta dietro è ben più grande del volume di tasse che uno gli può chiedere di grazia se le pagassero però sarebbe qualcosa certo chiaro grazie Beatrice questo è un segnale anche secondo me molto positivo il tema è centrale da questo punto di vista e quindi direi che possiamo se volete anche se non ci sono domande ci sarebbe da discutere giorni perché in realtà stiamo arrivando a toccare problemi problemi ulteriori da questo punto di vista che non sono più legati all'ambiente al digitale sono legati anche a dimensioni a questo punto che vanno ben oltre che ci proiettano verso la dimensione della comunità politica se volete quindi sta cambiando sicuramente il paradigma infatti i ragionamenti che tu adesso facevi si annida il problema io ho sempre avuto una percezione per esempio non sono un economista ma siamo arrivati a un punto in cui il cibernetico non so il digitale non so come chiamarlo ma ha alterato veramente la percezione di quelli che sono i valori la misura delle cose perché non è più non è più fondamentalmente legata al concreto cioè noi l'idea per esempio di queste monete virtuali cioè a me personalmente forse perché appartengo a una generazione intermedia tra però a me che un elemento non è materiale ma qualcosa che si è generato in questo modo possa acquisire un valore che sia superiore non so all'ammontare di tutto il patrimonio ha dell'incredibile ma sono ancora reale io per cui però se ci pensi l'Italia che è un paese manifatturiero ha difficoltà a capire che il valore delle cose cioè se voi vi comprate un telefonino come questo sofisticato belloccio oppure un un'automobile come quello che vi ho detto il valore è sempre più nel software che c'è sopra più che nell'oggetto al punto tale che la moneta diventa addirittura puro software esatto quindi allora che ci sia una bolla ci sta che ci sia una bolla però attenzione che non può risursi una bolla cioè c'è in corso una transizione culturale che è determinante e questa transizione culturale o i giovani come quelli che sono qui la catturano oppure siamo tutti fuori dal mercato io vecchio ma soprattutto poi voi giovani che è peggio quindi questa transizione culturale la dovete assolutamente capire e governare no esatto scusate ma nuova leva ciao ciao mi oscuro scusate perché è un'alternativa a me è bellissimo meraviglioso da oscurarsi no no ok benissimo allora io lascio ad Alessandro chiudere perché di Abbiatrice perché sono stati gli animatori dell'incontro sì diciamo che sono rimasto molto contento della di quelle delle parole che abbiamo detto perché sono abbiamo sviscerato veramente il problema e poi chiaramente abbiamo toccato altri altri temi quindi e quindi ovviamente questo poi ci porterebbe ad avere una discussione che dura appunto molte più ore per cui dobbiamo fermarci qua e comunque ringrazio ringrazio quelli che hanno Roberto Giacobazzi Matteo Nicolini e Beatrice Branca che hanno permesso di fare questo bellissimo incontro e tutti tutti gli studenti che hanno che hanno seguito che hanno seguito questo 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 incontro e va bene quindi io vi saluterei tutti adesso e poi insomma alla prossima pillola grazie mille a tutti grazie grazie a voi grazie a tutti buona serata ciao grazie buona sera ciao